segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te sentendo le parole del premier meloni c'è il tema dei soldi i soldi però si trovano per le armi per mandare le armi in ucraina i soldi ci sono sempre poi tra l'altro pare che ammontino all'incirca quelle che dovrebbero essere una riforma completa delle pensioni quindi insomma non è neanche poca cosa poi c'è questa vicenda del sindacato cosiddetto concertativo è un po un gioco delle parti arrivano lì c'è landini che fa l'incendiario vorrei ma non posso poi se sbarra che dice no dobbiamo essere seri tratta in realtà ottengono solo una cosa la convocazione a questo tavolo che consente loro di dire siamo rappresentativi poi uno dice ma cosa dovrebbero fare sentivo il giornalista specchio beh dovrebbero fare come sindacati in francia semplicemente è talmente semplice palese basta guardare se le cose che dice landini sono vere se si crede davvero deve fare come in francia in francia hanno aumentato di due anni l'età pensionabile da 62 a 64 noi in italia siamo a 67 anni e la cgl la cgl ha fatto quattro ore di sciopero quando hanno fatto la legge fornero monti la legge fornero monti quattro ore di sciopero in francia ci tengono a quei risultati ci tengono quegli obiettivi i sindacati fanno quello in francia i sindacati in italia poi non so se è vera quella telefonata dove si dice che pagano le 20 euro venite vi diamo la pettorina la restituite vi diamo un buono da 20 euro per riempire le piazze è una cosa vergognosa di vittorio che il grande leader della cgl che ha costruito un sindacato conflittuale di classe si chiamava così che ha ottenuto grandi risultati questi sindacati servono solo ai sindacalisti non ai lavoratori poi nel servizio di prima ho visto anche un po di politica anche lì come dire l'ultima settimana ho guardato dei dati i morti sul lavoro nell'ultima settimana sono 32 32 per tutti parlano di questi morti sul lavoro nessuno fa nulla non fa nulla al governo non fa nulla il sindacato che dovrebbe essere quello che fa le battaglie non fa nulla non fanno nulla le imprese ci andrebbe una cultura quindi formazione investimenti controlli non si fa nulla continua a morire l'agente muoiono anche quelli delle forze dell'ordine ci sono stati tre suicidi nell'ultima settimana di agenti dall'inizio dell'anno siamo neanche a metà anno ci sono stati 20 suicidi di agenti di polizie carabinieri lo sapete lo dite questo è un grave problema questo è il nostro paese è un paese allo sbando dove la politica fa anche un po ridere ho letto questo intervento